Volete vivere a lungo, molto a lungo, ma in buona salute? E allora digiunate. Se il digiuno può ringiovanire un organismo sano, riattivando sistema immunitario e cellule staminali, una rigorosa dieta ipocalorica può aggiovare persino i pazienti in chemioterapia. Lo sostiene Walter Longo, uno dei massimi esperti mondiali di gerontologia, che è raccolto in un libro il risultato di 20 anni di ricerche condotte tra Italia e Stati Uniti. Cinzia Dicianni. Rigenerare l'organismo rallentando l'invecchiamento, riprogrammare il sistema immunitario per farlo ripartire più forte. Sono le promesse della DMD, la dieta mima digiuno che inganna il corpo a fin di bene. È stata messa a punto dopo 20 anni di studi condotti al di qua e al di là dell'oceano dal biochimico genovese Walter Longo, che si definisce cervello di frontiera, da quando, oltre a guidare il Longevity Institute dell'Università della California, dirige il programma Longevità e Cancro all'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di Milano. La dieta mima digiuno è essenzialmente una dieta che riesce a ottenere gli stessi effetti del digiuno solo con acqua, dando però al paziente circa 1000 calorie al giorno di un cibo a basso livello di proteine e basso livello di zuccheri. Il digiuno fondamentalmente in una singola intervento riesce a disattivare questi geni pro-invecchiamento e attivare i geni protettivi. L'altro effetto è quello sulla rigenerazione, cioè normalmente avendo alti livelli di nutrienti le staminali rimangono bloccate, rimangono in questo stato ibernato. Durante il digiuno vengono riattivate e possono dar vita a rigenerazione multisistemica. Bastano cicli ripetuti di 5 giorni continuativi di un regime dietetico ipocalorico per modificare fattori di rischio associati a invecchiamento, patologie cardiovascolari, diabete, obesità e cancro. Più proteine nella dieta, più questo IGF-1 sale. Alti livelli di questo IGF-1 sono associati con alti livelli di cancro. L'ongo ribalta convinzioni diffuse. Il digiuno in effetti protegge le cellule normali da qualsiasi tipo di tossina e la chemioterapia è una di queste. Quelle del cancro durante il digiuno in un certo senso vengono confuse e diventano più sensibili alla chemioterapia. Nuove prospettive sembrano aprirsi anche per la cura delle malattie autoimmuni. Perché il digiuno distrugge in effetti cellule vecchie, cellule danneggiate? Uno di questi tipi di cellule sono proprio quelle autoimmuni, quindi le cellule che nella sclerosi multipla attaccano i componenti della spina dorsale. I benefici del digiuno, totale o mimato, stanno conquistando i medici, soprattutto americani. Il medico decide, in base alle condizioni del paziente, per una persona molto sana la dieta media di digiuno potrebbe essere fatta una o due volte all'anno. Il problema principale è l'associazione con farmaci. Ad esempio fare dieta media di digiuno e insulina è una cosa non accettabile. Dopo un centinaio di lavori scientifici, ora a lungo ha raccolto in un libro il risultato dei suoi studi. I proventi vanno alla fondazione Create Cures, che ho creato qualche anno fa, proprio per stimolare la ricerca, la creatività nella ricerca e particolarmente la creatività per tirare fuori delle soluzioni poco costose che siano disponibili ai pazienti quasi immediatamente. E' un'altra cosa che si tratta, è un'altra cosa che si tratta, è un'altra cosa che si tratta.